Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa lezione breve, ma speriamo interessante, sia per gli studenti che sono in ascolto, sia per il pubblico che ci potrà seguire. Io sono Niccolò Scaffai, insegno critica letteraria e letterature comparate al Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Università di Siena e quest'oggi vi parlerò di Eugenio Montale, uno dei principali poeti del Novecento, anzi forse il più canonico tra i poeti del Novecento e in particolar modo ci fermeremo su una delle sue liriche più famose, più importanti e vedremo perché la leggeremo insieme, mi riferisco a La Primavera Italiana. Ebbene, gli obiettivi di questa nostra presentazione, che durerà all'incirca 30 minuti o qualcosa di più, sono per l'appunto, gli obiettivi sono il riflettere sullo studio del testo poetico, sulle sue implicazioni, mettere a fuoco, come accennavo poco fa, un autore centrale nel canone del Novecento, anche nel canone scolastico e poi universitario, in generale tra le letture fondamentali per quanto riguarda la letteratura italiana, e accennare attraverso questa poesia la possibilità di costruire un percorso interdisciplinare in cui letteratura e storia, letteratura e altre forme dell'immaginario, dalla musica al cinema, possono confluire, possono coesistere. Prima di tutto qualche breve cenno sull'autore, Eugenio Montale nasce nel 1896 a Genova, muore nel 1981 a Milano. Avete qui una breve sintesi di quali sono i titoli delle sue raccolte principali, 1925 Ossi di seppia, 1939 Le occasioni, 1956 La bufera e altro, che è il libro che rappresenta un po' il vertice della prima maniera montaliana, quella alta, sublime, tragica, e proprio da questo libro sarà tratta la litica di cui parleremo, e poi il secondo tempo della poesia montaliana, in cui lui stesso definisce come un rovescio, in cui entrano nello stile, nella scrittura elementi più comici, o anche una maggiore immissione di aspetti della quotidianità. Seconda maniera che è scandita da raccolte come Satura, a diario del 71 e del 72, quaderno di quattro anni. Nel 1980 l'intera sua opera in versi, quasi intera, viene raccolta in un volume di Einaudi che porta questo titolo. Qui avete le copertine a sinistra dell'edizione originale della bufera, uscita da Neri Pozza, a destra di un'edizione recente, uscita alla fine dello scorso anno, con un commento a cura di Ida Campegiani e mia, uscita da Mondadori in collezione Lo specchio. Il titolo, La bufera, la bufera è altro, che cos'è questa bufera? In una lettera di Montale all'amico critico Silvio Guarnieri, lui stesso dice che la bufera è la guerra, in specie quella guerra dopo quella dittatura, ma è anche guerra cosmica di sempre e di tutti. La guerra, in specie quella guerra, cioè la seconda guerra mondiale, dopo la dittatura, dopo il fascismo, ma oltre a essere quindi un elemento, un evento, oltre a riferirsi per metafora, a una guerra specifica, la bufera è anche una condizione, se volete una condizione generale, che trascende anche le specifiche circostanze storiche. E poi il titolo, La bufera è altro, questo altro, per l'appunto vuol dar conto di ciò che è avvenuto dopo, dopo l'evento catastrofico della guerra, e vuol dar conto anche di una serie di circostanze, anche biografiche, anche personale, da cui la poesia di Montale prende spunto. Le edizioni della bufera, la prima parte esce in un libretto autonomo dal titolo Finisterre, che poi entra con questo titolo a comporre la prima sezione della raccolta del 1956, esce in Svizzera nel 1943, in Svizzera perché era un libro con una epigrafe e con dei riferimenti critici contro la guerra, contro la tirannia, anzi, del fascismo, e quindi non era, non sarebbe stato possibile pubblicarlo in Italia. Il libro completo, dicevo, esce nel 1956 da Mary Pozza, poi ripubblicato quasi subito da Mondadori, che da allora in poi ne è diventato l'editore. Al tema della storia, la storia, la storia con la S maiuscola, la dittatura, la guerra, il dopoguerra, si intrecciano la vicenda personale, anche sentimentale, e non solo, diciamo, sentimentale, ma anche in fondo una condizione esistenziale, politica, persino nel dopoguerra, la vicenda, dicevo, di un io, di un io, di un personaggio che è una proiezione dell'autore, di Montale stesso, accanto al quale emergono due figure femminili, due destinatarie, due interlocutrici, che in parte si alternano, ma in parte anche si confondono, si sovrappongono. Quando leggiamo la letteratura e la poesia lirica, in maniera particolare, è importante conoscere lo sfondo biografico, ma non dobbiamo mai pensare, credere che questo sfondo biografico entri direttamente, immediatamente nel testo. Ecco, quindi se queste due figure, Clizia e Volpe, corrispondono, hanno due referenti biografici, corrispondono a due figure reali, che davvero Montale conobbe e frequentò, è anche vero che le loro trasfigurazioni poetiche non sempre sono così nettamente diverse, separate, come lo sono due persone nella vita reale, e quindi in qualche modo sono due figure poetiche che si alternano e in parte si sovrappongono. Clizia, per l'appunto, che è anche la destinataria, con lei a cui si rivolge il poeta nella primavera italiana, come vedremo, e Volpe, un'altra figura, ispirata dalla figura reale, dalla poetessa Maria Luisa Spaziani. Il libro quindi, anche per questa sua componente di vicenda anche, come dire, esistenziale, sentimentale, può essere considerato una sorta di canzoniere, ma con un orientamento narrativo che per certi versi tende persino al romanzo, e per l'appunto romanzo era un titolo provvisorio che Montale aveva pensato di dare alla sua raccolta e che poi, come abbiamo visto, come sappiamo, cambia. Ecco l'aclizia di Montale, che al secolo, nella realtà, si chiamava Irma Brandeis, era una studiosa di letteratura italiana del Medioevo, di cultura, di filosofia di letteratura italiana del Medioevo, di Dante, su cui ha scritto un libro, incontra Montale, conosce Montale a Firenze, proprio dove Irma Brandeis si era recata per i suoi studi, per la sua formazione, tra i due nasce un legame, siamo intorno alla metà degli anni Trenta, e Irma e Eugenio potranno frequentarsi saltuariamente fino al 38, con l'anno in cui, a causa delle leggi razziali, Irma, straniera e di origine ebraica, dovrà lasciare l'Italia definitivamente per non farvi più ritorno, o perlomeno per non incontrare più Montale negli anni successivi. tra i due c'è anche un bellissimo carteggio, ci sono delle lettere, meglio, di Montale a Irma, è comunque una figura centrale nella poesia in generale, nella, come dire, nella storia della poetica montaliana. dicevo prima, il 38, l'anno delle leggi razziali, il 38 è anche, per l'appunto, l'anno in cui è ambientata, se così si può dire, se si può parlare di un'ambientazione per una lirica, il 38 è l'anno in cui è ambientata la poesia, la primavera italiana di cui stiamo per parlare. Che cosa ci rappresenta questa slide? Ci rappresenta un ritaglio di un quotidiano dell'epoca, 10 maggio 1938, che dà conto di un evento eccezionale per l'epoca avvenuto il giorno prima, il 9 maggio del 38, la serata al comunale e la partenza del Führer. Sono appena le 20, ma già una folla strabocchevole si assiepa nei Lungarni, dal ponte Santa Trinita, al ponte della Vittoria, in attesa del passaggio del Führer e del Duce, che con i rispettivi seguiti si recheranno al teatro comunale per la serata di gala. In effetti che cosa è avvenuto? È avvenuto che in quei giorni Hitler è in visita in Italia, invitato da Mussolini e Firenze è una delle mete della visita. La città viene mobilitata, viene proclamato il giorno di festa, vengono organizzati cortei, le strade vengono adornate da tristi bandiere, come vedete in questa slide. I due in parata, quelli che Montale, come vediamo, chiama i mostri nella sera della loro tragenda, si recano a una serata di gala al teatro comunale di Firenze a assistere alla rappresentazione di un melodrama, di un'opera lirica. Questa parata, questo trionfo a cui in festa aderisce tutta la città sconcerta Montale, così come altri antifascisti che appunto percepiscono la tragicità grottesca anche di questa festa per celebrare una sorta di rito sanguinario che di lì a poco starà per verificarsi, lo scopo della Seconda Guerra Mondiale. Ma non dimentichiamo appunto che mentre questa parata avviene, già le vittime del nazifascismo ci sono e sono numerose, già la persecuzione è in atto e idealmente questa parata porta qui, porta qui, porta ai cancelli di Auschwitz-Wirkenau che non sono evocati direttamente nella poesia ma che dobbiamo sempre tenere a mente come sfondo in qualche modo. E la frase che leggeremo nella poesia, più nessuno è incolpevole, ci riporta proprio a questa dimensione, alla tragedia storica che è stata provocata dalla adesione anche euforica, anche incosciente, a celebrazioni come quelle che la primavera italiana rievoca. In questa slide avete un'immagine recente naturalmente del Teatro Comunale di Firenze, anzi ex teatro, adesso da poco tempo è stato dismesso, ma era lì, esattamente lì, il luogo in cui è avvenuta la rappresentazione a cui assistono Hitler e Mussolini in quella sera del 9 maggio. E questo è Corso Italia, il corso per l'appunto di cui si parla nella poesia. L'opera che era rappresentata quella sera era il Simon Boccanegra di Verdi, e questo è un estratto del libretto di scena originale di quei giorni, quello che ebbero tra le mani probabilmente gli spettatori più o meno illustri di quella serata. Quindi teniamo presente questo contesto, il contesto storico generale, anche lo specifico contesto, il corso, il teatro, la rappresentazione dell'opera. Ma è il momento adesso di leggere la poesia per rendersi conto di quali sono effettivamente le sue corde, le sue implicazioni. La primavera italiana, né quella che a vederlo solo si gira. Dante a Giovanni Quirini. Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette. Stende a terra una coltre su cui scricchia come sul zucchero il piede. L'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale, tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croce a uncino, l'ha preso e inghiottito. Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche, il muso dei capretti uccisi. La sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue, si è tramutata in un sozzo trescone d'ali schiantate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde, e più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla, dunque, e le candele romane a San Giovanni, che sbiancavano lente l'orizzonte, e i pegni e i lunghi addii, forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda, ma una gemma rigò l'aria, stillando, sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi, gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell'avvenire, e le liotropi nati dalle tue mani, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio. Oh, la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu, che non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro, e si distrugga in lui per tutti. Forse le sirene e i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda si confondono già col suono che, slegato dal cielo, scende, vince, col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senza ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud. Ecco, una poesia, come sentite, di tono molto sostenuto, una poesia di intensità tragica. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, com'è fatta questa poesia? è composta da tre strofe di misura crescente, come se, via via, che il testo si sviluppa, si incrementasse, si amplificasse, no? Anche attraverso la misura delle strofe, l'intensità del contenuto. E osservate però che l'ultima di queste strofe, la più lunga, è come divisa in due da uno scalino, da un verso a scalino, e appunto è disinibio, urla, piagata, primavera. È una caratteristica tipica della poesia di Montale, che spesso usa questi gradini, questi versi spezzati, e in genere, come in questo caso, vogliono dire qualcosa questi scarti. E qui siamo in presenza di una, come dire, intensificazione del pathos, che prepara poi l'ultima fase del testo. Come avrete sentito dalla lettura, poche sono le rime, rarissime quelle perfette, il che fa risaltare ancora di più, di fatto, l'unica vera rima importante della poesia, quella verso la fine, tra morte e sorte, due termini che corrispondono a due grandi universi tematici, quello della morte e quello del destino, che sono coerenti con l'intensificazione tragica della poesia in genere, e con la valorizzazione della missione di questa clizia, su cui tra poco torneremo. I versi sono versi lunghi, ci sono nelle prime parti, nelle prime strofe, indecasillabi alternati a versi più lunghi, che tendono a avere la misura esametrica, e nell'ultima parte, invece, ci sono più numerosi, e anche più scanditi, lì indecasillabi, pensiamo che non mutato amor mutata serbi, eccetera, e anche questa tendenza a una maggiore regolarità, regolarizzazione metrica verso l'indecasillabo, ci dà il senso di una poesia che, nel finale, tende a aumentare il tasso di sublime attraverso la più sistematica adozione di un verso, del verso principe della tradizione idrica. Per quanto riguarda quell'epigrafe, quell'epigrafe è presa da un sonetto a Giovanni Quirini, che era stato attribuito erroneamente a Dante, e che Montale probabilmente ha letto in un commento, insomma, delle rime di Dante, a cura del filologo Gianfranco Contini. Ecco, questo è il contesto originale, col verso, né quella che a vederlo sol si gira, chi è quella che a vederlo sol si gira? È Clizia, per l'appunto. Chi era Clizia? Clizia era una ninfa che, come racconta il mito, in particolar modo come racconta Ovidio nelle Metamorfosi, era stata trasformata dal sole in un fiore, nel girasole, e proprio perché, innamorata del sole, cercherà di volgersi, anche una volta trasformata in fiore, verso l'amato. Da qui il mito, diciamo, eziologico del girasole che si volge verso la luce. La poesia rappresenta la serata della visita di Hitler e Mussolini a Firenze e al teatro comunale. Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette. Le spallette sono quelle del fiume Arno, il fiume di Firenze. Perché? Perché il teatro comunale, quel corso, quel corso Italia che vi ho mostrato prima, si trova proprio accanto all'Arno, è parallelo all'Arno, a pochi metri di distanza. E sappiamo dalle cronache dell'epoca che la città era stata illuminata, erano stati aggiunti, oltre ai normali lampioni, anche dei fanali sulle rive dell'Arno. Quindi queste luci scialbe, cioè di colore sbiadito, opaco, sono quelle per l'appunto dei fanali e dei lampioni che erano accesi. E che, proprio per l'eccezionale quantità di luce, attirano le insetti, attirano le falene. Non dimentichiamoci appunto che siamo a maggio. Il falene che poi cadono a terra e formano come una coltre, come una copertura su cui i piedi scricchiolano come se pestassero lo zucchero. È un'immagine di ribrezzo, quella che vuol dare qui Montale, che ha probabilmente un'origine molto realistica, è quello che deve essere avvenuto davvero, ma che naturalmente, come in tutta questa poesia, ha anche poi un significato simbolico. Non è soltanto, come dire, il ribrezzo per l'insetto schiacciato, ma è anche, come dire, una sorta di, quasi di piaga che si sta abbattendo sulla città. L'estate è imminente, dice Montale, siamo appunto a maggio, e tuttavia sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta. È quasi estate, è primavera inoltrata, ma è una serata fredda, c'è un gelo, come se ci fosse un'alterazione dell'atmosfera provocata da questo evento infernale. Il gelo notturno che capiva, capiva qui va interpretato in senso intransitivo, capiva vuol dire che era contenuto, il gelo notturno, contenuto nelle cave segrete dell'inverno, della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Maiano è una località intorno di Firenze dove c'erano e ci sono delle cave, quindi queste cave reali sono interpretate da Montale come della specie di luoghi nascosti in cui il freddo invernale si sta riversando verso la città, scavalcando orti, cioè giardini e colli, fino ad arrivare ai renai, cioè alle sponde sabbiose del fiume. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale, è Hitler, un messaggero dell'inferno, lo definisce, che è passato tra un ala-la, cioè quel grido di battaglia che era stato adottato dal fascismo, di scherani, di sgherri, i gerarchi nazifascisti presenti. Un golfo mistico acceso e pavesato di croci a uncino l'ha preso e inghiuntito. Che cos'è il golfo mistico? Il golfo mistico ci rimanda allo scenario, al teatro. Il golfo mistico è, secondo una definizione che era stata data da Wagner, è per l'appunto la buca dell'orchestra, che è accesa e pavesata, cioè adornata, di croci a uncino, anche quegli standardi con le svastiche che abbiamo visto anche nell'immagine precedente. Questo avviene dentro, i mostri sono stati inghiottiti dalle porte del teatro, ma fuori ci sono le vetrine chiuse, perché è un giorno di festa, sono povere e inoffensive, ma anche loro, anche diciamo, la cittadinanza viene coinvolta in questo scenario di tragedia e di colpevolezza generalizzata. E sembrano anche queste vetrine, benché inoffensive, armate, armate di cannoni e giocattoli di guerra, è come se ci fosse una guerra universale. Anche il beccaio, cioè in toscano il macellaio, ha sprangato, ha chiuso, e infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. Il macellaio, naturalmente, vende il capretto, ma qui il capretto diventa la vittima sacrificale, assume un valore simbolico, la sagra, la festa dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue. La città è in festa, la popolazione, che di per sé è mite, ma diventa, guardate questo simoro drammatico, diventa anche la stessa cittadinanza, per il fatto di accogliere Hitler, o contagiata in qualche modo dal male, diventa essa stessa carnefice. si è tramutata in un sozzo trescone, cioè una danza, una danza agitata e sudicia, di ali schiantate, quelle delle falene, di larve sulle golene, le golene sono quelle zone pianeggianti, subito accanto al letto di magra del fiume, e l'acqua seguita a rotere le spunte. E poi da qui c'è uno scarto, dallo scenario così realistico di base, si passa a una immaginazione che ci porta in un altro momento, diciamo, e ci porta anche in un altro luogo. Tutto per nulla, dunque, e le candele romane a San Giovanni che sbiancavano l'elte, l'orizzonte, i pegni e i lunghi addini. Qui Montale si sta rivolgendo, sta pensando, e si sta rivolgendo a Clizia, alla donna amata, che non è più solo donna amata, ma nella trasfigurazione è diventata una figura simile alla Beatrice di Dante, una figura dotata di un potere salvifico generale, dotata della forza di opporsi persino alla tragedia storica, ai tiranni, ai mostri nella sera della loro tre gente. Tutto per nulla, dunque, il sacrificio di Clizia che ha dovuto lasciare l'Italia è stato vano, e qui la mente va, il poeta va a un momento vicino alla Dio, la festa di San Giovanni, il patrono di Firenze, le candele romane, i fuochi d'artificio che vengono fatti brillare la sera di San Giovanni, tutta questa memoria, tutto questo ricordo a cui si è dovuto dire addio, i lunghi addi, forti come un battesimo, non sono serviti a niente, no, non è così. La piagata primavera, dice Montale, è pur festa se raggela in morte, questa morte, guarda ancora in alto, Clizia è la tua sorte. quella Clizia che si è dovuta allontanare però in qualche modo ritorna su un piano metafisico per affermare il suo valore. Questi ultimi versi che vi ho letto sono preceduti da versi ardui, versi che hanno anche dei riferimenti mistici, per esempio gli angeli di Tobia, i sette, i sette arcangeli, qui è un riferimento biblico, l'angelo Tobia viene aiutato dall'arcangelo Raffaele a trovare una sposa, quindi forse dietro a quest'immagine c'è un'idea di una unione mistica tra il poeta e una Clizia lontana. Gli eliotropi, cioè i girasoli, che sono il fiore in cui è stata tramutata Clizia, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco è a punte di Sinibbio, il Sinibbio è un vento genito. La piegata primavera, come vi ho letto prima, è, nonostante tutto, è comunque una festa se è capace di raggelare in morte questa morte, cioè se è capace attraverso il gelo di far morire la morte. È un'immagine paradossale che ricorre in tanta letteratura mistica, far morire la morte, questa morte, sarebbe appunto questo scenario tragico, mortifero, portato dalla presenza di Hitler e Mussolini a Firenze. Guarda ancora in alto, Clizia, guarda in alto, guarda verso il cielo. È stato osservato, è stato osservato che questo riferimento, anzi questa esortazione di guardare in alto potrebbe essere in qualche modo un ricordo, un'allusione a qualcosa che ci porta fuori dalla letteratura ma che ci lascia nell'immaginario, nei prodotti dell'immaginario. Mi riferisco a un grande film, il grande dittatore di Chaplin, che per l'appunto era arrivato in Italia nel 1946, che è la data in cui la primavera italiana è stata probabilmente, se non scritta del tutto, però diciamo rielaborata, conclusa, terminata. La poesia porta due date, 39-46. Il grande dittatore è un film apparentemente comico, ma in realtà è un fortissimo atto di accusa nei confronti della dittatura e di Hitler. E nel finale il personaggio del protagonista si rivolge con un collegamento psichico a distanza, diciamo, alla figura di Hannah, la donna lontana, e le dice appunto guarda in alto, Hannah. La scena è piuttosto simile in realtà e anche il contesto, Hitler, la guerra, sono tali da poter far pensare in effetti a un contatto. Guarda ancora in alto, Clizia è la tua sorte, tu che non mutato, amor mutata, serbi, che è un altro verso prelevato da quel sonetto pseudodantesco da cui proviene anche l'epigrafe, si abbacini nell'altro e si distrugga in lui per tutti. Che cosa? Il cieco sole che in te porti, la luce nascosta è il cieco sole che porti dentro di te che possa in qualche modo annullarsi nella luce suprema della divinità, che non è necessariamente una divinità cristiana nel senso più così ortodosso del termine, ma una divinità come forza positiva che possa schiacciare i tiranni. Forse le sirene e i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda si confondono già col suono che è slegato dal cielo, quindi forse le sirene e i rintocchi, insomma, i suoni della festa, della celebrazione per questa visita tragica, tendono a confondersi, possono essere sopravvanzati e annullati da un suono metafisico che viene dall'alto che slegato dal cielo scende, vince col respiro di un'alba, di un'alba che quindi simbolicamente segni una rinascita che domani per tutti si riaffacci, bianca, un'alba bianca come i scialbi fanali ma senza quelle ali di raccapriccio, cioè quel riprezzo provocato dalle ali schiacciate degli insetti si riaffacci ai greti arsi del sud si riaffacci cioè sulle sponde così riscaldate dal sole del sud dell'Italia pensiamo che l'aclizia a cui si rivolge Montale non è più in Italia è lontana è nell'America settentrionale in un indistinto nord ecco questa poesia di cui abbiamo dato una sintetica lettura e analisi e interpretazione ci fa capire proprio come come il testo poetico in particolar modo il testo poetico novecentesco possa lavorare con una stretta attinenza con gli eventi storici con gli elementi concreti con una collocazione anche diciamo topograficamente esatta e allo stesso tempo trasfigurare su un piano simbolico universale quei contenuti in questo senso la primavera ecelleriana è una poesia davvero emblematica sia per i contenuti ma anche per questa elaborazione formale per questo rifarsi a elementi della tradizione ma riadattandoli con nuove configurazioni dicevo una poesia esemplare dell'intera storia della lirica del novecento grazie